Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi torno a parlarvi della seconda stagione di The Bad Batch e in particolare del suo sedicesimo e ultimo episodio intitolato Piano 99, una puntata che chiude splendidamente le vicende di questa seconda stagione e soprattutto tramite alcune interessantissime rivelazioni accresce a dismisura l'hype per una terza stagione, un qualcosa che fino a qualche mese fa prima del suo debutto sembrava praticamente impossibile, anche e soprattutto con quelle che sono state le considerazioni in merito alla prima stagione. Ma anche quest'ultimo episodio, come vi dicevo, è stata l'ennesima dimostrazione di quanto le tematiche e soprattutto i momenti emozionanti l'abbiano fatta da padroni all'interno di questa seconda stagione e anche quest'ultimo episodio, oltre alle tante sorprese, contiene una marea di riferimenti ed easter egg, tutti elementi dei quali vi parlo come sempre dopo la sigla. L'ultimo episodio di The Bad Batch 2 si apre dove si era concluso il quindicesimo, e cioè con i due vagoni fermi al centro della funivia su Eriadu, e soprattutto con la Clone Force 99 che deve tenere a bada i colpi di blaster dei soldati TK. Per riavviare il sistema e dare nuovamente potenza alla funivia, Tech si reca ad uno dei terminali presenti sul binario, mentre Tarkin ordina di inviare supporto aereo tramite i V-Wing. Nel frattempo Tech riesce a sbloccare il meccanismo della funivia, ma i caccia colpiscono il supporto di uno dei vagoni, e il clone ci cade sopra mentre ritornava dalla squadra, che invece si trovava sull'altro. I due vagoni sono ovviamente collegati, e il pericolante stava tirando con sé anche quello in cui si trovava il resto della squadra. Qui Tech compie un sacrificio estremo, sganciando il vagone e precipitando con esso nel vuoto, attuando proprio il cosiddetto piano 99. Il pathos di questa sequenza è davvero magnifico. Tutto si combina alla perfezione per creare una scena dalla potenza emotiva molto struggente. Le ultime parole di Tech, le musiche, le reazioni degli altri membri della Clone Force 99, tutto è perfettamente coadiuvato alla riuscita di una scena che, non lo nego, mi ha fatto versare davvero fiumi di lacrime. Ed è anche interessante notare che il piano 99 è una citazione al mitico clone 99, e soprattutto al suo sacrificio, che abbiamo visto all'interno della serie animata The Clone Wars. Nel frattempo, il vagone con all'interno la Clone Force 99, che come vi dicevo è sconvolta per il sacrificio di Tech, si libera ma prende velocità, schiantandosi contro l'ingresso della funivia. A causa dell'impatto, Omega perde conoscenza, e ci viene mostrata una bellissima scena dal suo punto di vista confuso e con ricordi frammentati. È interessante notare che la sequenza si svolge allo stesso modo in cui si era svolta quella di quando Hunter fu ferito da Cad Bane all'interno dell'ottavo episodio della prima stagione. Data l'emergenza della situazione, la Clone Force 99 non aveva altra scelta che tornare su Ord Mantell al covo di Sid, poiché lì si trovava il droide Ace III, che avrebbe potuto dare immediate cure mediche ad Omega. E infatti poco dopo la ragazza si risveglia proprio lì, e nel dialogo successivo con Hunter i nostri decidono di onorare il sacrificio di Tech e di abbandonare la vita da soldati per trasferirsi su Pabu. Poco dopo la scena si sposta a Breaker e Sid che si trovano al bancone del locale, dove possiamo notare la postazione di video Sabak che abbiamo visto in molti episodi precedenti della serie animata. La Trandoshana è visibilmente nervosa e presto scopriremo il perché. Infatti, dopo tutti gli indizi disseminati all'interno di questa seconda stagione e come avevamo ipotizzato da tempo, ella aveva tradito la Clone Force 99, dicendo all'impero che si trovavano proprio lì. E devo ammettere che anche il tradimento di Sid è stato costruito in maniera ottima, poiché anche se ce lo aspettavamo non è stato affatto banale, considerando il fatto che Sid si è trovata nella situazione di dover tra virgolette per forza di cose tradire la Clone Force 99, nel senso che non era riuscita, diciamo così, a mantenere la pressione per il fatto che la squadra era piombata nel suo covo con gli imperiali alle calcagna. E per questo, anche e soprattutto per tutto ciò che era successo in precedenza, voleva proteggere i suoi affari. Ovviamente non sto affatto giustificando il suo gesto, ma ci fa capire che probabilmente se la squadra non si fosse ripresentata al covo di Sid, ella non li avrebbe traditi. E questo comunque, a mio modo di vedere, è un elemento importante e che dà spessore narrativo a tutta la vicenda. In una scena successiva è proprio a Emlock a consegnarle la valigetta con il pagamento, in una scena che è molto simile a quella in cui DJ tradisce Finn e Rose in episodio 8. Il dottore aveva già in ostaggio Wrecker e approfitta della situazione per catturare anche Hunter. Omega, che nel frattempo avrebbe dovuto scappare via con AC3, osserva invece nascosta tutta la situazione. E soprattutto serve il momento in cui il dottore Emlock si prende gioco dei sentimenti di Hunter e Wrecker mostrando loro gli occhiali rotti di Tech. E in base a questa scena molti hanno ipotizzato che il clone possa essere ancora vivo e che sia stato prelevato dal dottore Emlock e portato anche egli nella struttura del Monte Tantis, per diventare praticamente una cavia da laboratorio. Ovviamente sarei felicissimo di scoprire che Tech sia ancora vivo, ma allo stesso tempo dal mio punto di vista se ciò accadesse andrebbe un po' a vanificare quello che è stato il suo grande sacrificio nei confronti della squadra e quindi a malincuore preferirei che le cose rimanessero così. È interessante notare che i cloni commando che vediamo nella scena e che avevamo già visto scortare Emlock rappresentano il nuovo corpo adibito appositamente alle operazioni riguardanti il Monte Tantis e sono chiamati Imperial Royal Guard, e cioè Guardia Reale Imperiale. Come avevo già avuto modo di dirvi però, non sono da confondere con la Guardia Reale dell'Imperatore, poiché si tratta di due corpi differenti. Anche se all'interno del romanzo I Signori dei Sith ci sono delle interessantissime rivelazioni in merito a questo argomento. Omega ovviamente non vuole abbandonare i suoi compagni e per strada attacca il Dottore e i cloni commando con il suo arco zaigeriano. Per distrarla Emlock le svela che Nala Se è ancora viva e soprattutto le propone uno scambio, ma mentre parlano la ragazza viene stordita dal clone commando Scorch. Ex membro della squadra Delta è soprattutto personaggio comparso nel mitico videogioco Republic Commando e nelle opere ad esso connesse, e che poi abbiamo rivisto all'interno del canone non solo in The Clone Wars, ma anche in tanti episodi di The Bad Batch. Ovviamente le vere intenzioni del Dottore Emlock erano quelle di spedire la Clone Force 99 su Eriadu, affinché subisse la punizione da parte di Tarkin, e infatti comanda i cloni commando di trovare anche Echo, che nel frattempo si era riunito con il droide Acey-3, e che per liberare Hunter e Breaker crea scompiglio prendendo il controllo di un nuovo tipo di camminatore, la TAC, che appare per la prima volta in Star Wars. Purtroppo però la squadra non riesce a impedire la partenza della navetta del Dottore Emlock, e quindi non riesce a recuperare Omega, riuscendo praticamente a malapena salvarsi con la Marauder. Mentre Echo dice che non c'era più speranza di rintracciare il luogo in cui la stessero portando, Hunter osserva la stanza vuota della ragazza, dove si trova il suo pupazzo Lula, e in maniera risoluta dice che non avrebbero smesso di cercarla finché non l'avessero trovata. La scena si sposta poi su Wayland, dove Omega, in maniera molto simile a Nalase, nel finale della prima stagione, sbarca alla struttura del Monte Tantis. E qui avviene l'incontro tra Nalase e la ragazza, con Emlock che praticamente non solo la incita ma soprattutto la minaccia a mettere le sue competenze e soprattutto i suoi segreti al servizio degli scopi dell'imperatore. È interessante notare che in questo passaggio Nalase risponde al dottore che ciò che l'imperatore chiedeva era impossibile. E a mio modo di vedere quello che Nalase reputava impossibile era la creazione di un involucro, di un corpo clonato che potesse contenere in futuro il potente spirito dell'imperatore Palpatine. E ciò, sempre a mio modo di vedere, comportava il fatto che questo corpo clonato non dovesse essere solamente in buona salute, ma si dovesse riuscire a distillare al suo interno una potente sensibilità alla forza. Ed è questo il concetto chiave che lega la clonazione alle vicende successive, riguardanti sia la creazione di Snoke e sia soprattutto la creazione e la nascita di Dayton, e cioè il padre di Rey, un personaggio del quale vi ho parlato nello specifico all'interno di un altro video. E sono convinto che anche le questioni che abbiamo visto in The Mandalorian, con il sangue di Grogu utilizzato sempre per gli esperimenti di clonazione, riguardi proprio il fatto di instillare una potente sensibilità alla forza all'interno dei vari corpi clonati. Ma ovviamente non vedo l'ora di scoprire come si evolveranno tutte queste questioni. Nel frattempo Omega viene portata all'interno di un laboratorio in cui vediamo moltissimi cloni utilizzati come cavie, tra i quali la ragazza ritrova anche Crosshair. Poco dopo la raggiunge la dottoressa Emery Carr, che le svela un'altra verità. Le due infatti sono sorelle, e quindi anche la dottoressa è un clone derivante dal patrimonio genetico di Django Fett. E questa incredibile rivelazione, che apre a risvolti davvero interessanti per una terza stagione, chiude il sedicesimo episodio di The Bad Batch 2 e soprattutto questa sorprendente seconda stagione. Questa puntata infatti è la summa di tutto ciò che abbiamo visto all'interno degli episodi precedenti, dove tutte le linee narrative riguardanti quindi le questioni della Clone Force 99, di Crosshair e soprattutto della struttura del Monte Tantis e della presentazione del Dottor Hemlock come nuovo villain, vengono a combaciare perfettamente. Infatti per il prosieguo della serie, la divisione scienza avanzata e tutto ciò che comporterà sono di vitale importanza, poiché la Clone Force 99 è invischiata al 100% in queste questioni. Da un lato infatti abbiamo Crosshair e Omega che si trovano all'interno della struttura del Monte Tantis, e Omega che è una pedina importantissima, affinché la scienziata Nalase possa portare avanti il suo lavoro e svelare al Dottor Hemlock tutti i segreti della clonazione caminoana. E allo stesso tempo abbiamo il resto della Clone Force 99 e quindi Hunter, Wrecker ed Echo che invece si impegneranno a cercare la ragazza e soprattutto a cercare questa struttura. In realtà ci sono anche molte altre linee narrative che vengono aperte da questo finale di stagione, perché non è detto che Echo voglia seguire Hunter e Wrecker nella ricerca, poiché come ben sappiamo è impegnato con la rete di cloni disertori. E questa, come suggerito anche dall'ufficiale imperiale Coburn nell'episodio precedente, potrebbe essere la linea narrativa che apra ad uno scontro di cloni insorti contro il nuovo esercito imperiale. Oltre ai tantissimi risvolti narrativi sia in merito alla lore sia in merito ai protagonisti che questo finale di stagione ci dona, c'è anche un'importante, anzi direi importantissima parte emozionale, perché un personaggio come Tech, che fino a qualche puntata fa poteva essere considerato praticamente una macchietta, si eleva totalmente. Avevamo già visto la sua crescita, la sua caratterizzazione migliorarsi episodio dopo episodio. E ciò che accade all'interno dell'ultima puntata è praticamente il culmine del suo arco narrativo, ed è anche per questo che preferirei che le cose rimangano così, perché è stata davvero la degna, struggente e coraggiosa conclusione delle vicende del personaggio. Insomma, un anno fa non l'avrei mai creduto possibile, ma sono davvero in hype per una terza stagione di The Bad Batch, che se dovesse mantenere la qualità della seconda sarà anch'essa davvero eccellente. E ovviamente in un prossimo video avrò modo di recensire in maniera più specifica tutta questa sorprendente seconda stagione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo sedicesimo episodio di The Bad Batch 2 e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!